Ciao a tutti ragazzi, io sono MagicSaw e oggi siamo su Gretel e Ansel. È un gioco punta e clicca, lo conoscerete in tantissimi. Partiamo. Allora, siamo nella campagna. La madre che fuma. Già secoglioni girati di prima mattina, come mia madre. Una fiume. Allora. Vasi. Sono i pulsanti principali. Ok. La bra bra bra, sì. Lo fanno tutti quelli che vogliono mandare nel bosco. Ok. Ma fiume. Oh che figo, si può sparare dove si vuole. E ha spaccato i vetri. Bah, tog life. Mosca. Scendi. Giù dalle brande. Non si dorme, soldato. Ho mangiato una mosca. E' anche felice. Eh, sì, lo so. Tutte le mattine si è incazzato. Allora, la madre. Cos'è? Un pesce? No, una bambola. Che figo, posso raccogliere gli oggetti. Allora. Andiamo. Guardate, la figlia di Michael Jackson. Ok. Andiamo. Aprite. Sì, c'è una crepa dietro. Qua pesa, non è mica un macigno, che lo spostate in due. Questa è una trappola. Una chiesa ladra, credo. Ok. Facciamo incazzare pure le api. Benissimo. Facciamo... Una moneta. Un'altra lì. Eh, se non mi fa andare. Ma cos'è? Ah, ma bisogna anche salire le scale. Che schifo. Facciamo gli scherzi telefonici da soli. Ah, se, prendi il telefono. Quanto non abbiamo niente da fare. Frommo di solitudine. Ah, dobbiamo. Lo facciamo, mettiamo lì com'esca. Chi ha me i vetri. Non so che fare. Ma tu non ho una tutte le volte. Ah, una moneta. Dove la trovo la manovella? Ecco. 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 Ecco, ci guadagno. farò per l'avviare dai sopra di noi così ci uccidono le api due frecce addirittura ma posso andare? su serio lì c'è uno scogliatolo che si ingruppa una moneta no la mia moneta deficiente andiamo lì qua c'è un ragno di sicuro non mi avvicino perché mi ha fatto ritornare non mi voglio neanche avvicinare a te non so già che muoio no ti ho detto di non andare bambino cattivo questo gioco è macabro no c'è un calmirino ok questa volta aspetta c'è un'altra cosa che luccica lì un'altra moneta abbiamo i big money ora ci prendiamo la lambo scappiamo di casa si ho capito che c'è ragno ora che abbiamo una novella possiamo andare qua ok ok poi non ho nient'altro c'è una bambola totalmente inutile scogliatolo perché lui può passare il mio ah una moneta una ghianta la ghianta lo scogliatolo va lì eh no faccio lì lancio non so che fare provo ad andare dallo scogliatolo che non c'è ovviamente si può andare qua no ma trattiamo i coniglietti la farfalla no corvo non fa brutto corvo ti ho detto di non buttarla giù è l'ultima cosa che dovevi fare cosa? cos'è? un secchio eh ma ci sono st'affari ora non so che fare qua c'è l'acqua aspetta non è che devo attaccarla qua no non lo so ci passo dopo vado a vedere che combina i fratelli se ho fatto qualcosa di utile non si può risalire di lì cosa faccio? ci faccio andare il mio fratello lì nella rete cosa fa l'idiota? no ma davvero? lo sto picchiando a sangue chiamatela WWF perché sto bambino è un animale ma tratta gli animali sta qua spacchiamo un orologio prima non c'era oh che bello ora posso sapere l'ora la mia vita è realizzata perché qua brilla questo non è che mi devo mettere nel cammino no non c'è il fuoco ah lui sorride lo meno sorride anche è bello no è morto no non pensavo a deciderlo veramente no ma c'erano ancora gli strumenti ma cos'è qua? no 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 anche di fogli cosa me ne faccio? metto un ottamino ragazzi sono accorto di te ah ho raccolto questo cosa fa? ipnotizza? qua cazzo non so più fare eh la chiave ora tenersi accorta che c'è la chiave per essere per essere un po' dentro lasciamo un po' ecco perché ma andremo avanti nel prossimo episodio lasciate un mi piace iscrivetevi e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.